Secondo quanto riferito, il difensore dell'AC Milan Strainia Pavlovic sarebbe sbarcato in Italia per unirsi ai rossoneri. Il Milan quest'estate prova a rinforzare tutte le sue linee. In precedenza erano riusciti a far entrare Alvaro Morata. Dopo Morata, ora il Milan sembra intenzionato a portare un nuovo centrale. I rossoneri avevano già preso di mira il difensore del Salisburgo Strainia Pavlovic. Il Milan ha ricevuto buone notizie. Il difensore serbo sarebbe molto interessato al passaggio in rosso-nero. Secondo quanto riferito, anche il Milan si sarebbe avvicinato al Salisburgo. Alla fine i loro sforzi furono ripagati. Il Milan avrebbe raggiunto un accordo con il club austriaco. I rossoneri lo pagherebbero circa 18 milioni di euro. Ci saranno poi altri 2 milioni di euro aggiuntivi. Si dice che anche Pavlovic si unirà presto alla squadra del Milan. Ora il Milan completerà a breve il trasferimento di Strainia Pavlovic. Perché secondo quanto riferito era volato dalla Serbia ed era atterrato in Italia. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Si dice che si è atterrato in Italia lunedì sera, 29 luglio 2024, ora locale. Successivamente, Pavlovic avrebbe dovuto sottoporsi a esami medici. Dopodiché stipulerà il contratto e verrà svelato come giocatore del Milan.